Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. La scuola italiana è allo sfascio. Queste le parole inequivocabili utilizzate dallo psicologo Paolo Crepè, uno dei protagonisti del dibattito televisivo contemporaneo, per quanti Savassandira abbiano ancora la televisione, io me ne sono liberato con giubilo fin dal 2013. In ogni caso Crepè ha il pregio, a giudizio di chi vi sta parlando di dire in forma molto semplice, accessibile, talvolta anche un po' banale, cose che in fondo sono vere e difficilmente contestabili. Come contestare in effetti le parole di Crepè in relazione allo sfascio della scuola italiana? È evidente che Crepè ha perfettamente ragione e coglie nel segno. La scuola italiana è allo sfascio. Oltre a questa fenomenologia dello sfascio che resta sulla superficie dei fenomeni, bisognerebbe tuttavia, andando con Crepè oltre Crepè, indagare sul perché, su quali siano le cause di questo sfascio, che tutto è fuorché casuale. Il potere, in sintesi, vuole individui non pensanti, acefali, privi di spirito critico e di cultura. Ecco perché stiamo assistendo ormai da diversi lustri alla devastazione neoliberale e turbocapitalistica della scuola. Ciò che sta accadendo non è affatto accidentale, rispondendo invece a un processo ben radicato nella logica dialettica di sviluppo del capitalismo, logica dialettica di sviluppo che trova nella devastazione di tutti gli enti pubblici e di quelle che Hegel chiamava le radici etiche un proprio momento essenziale. Ecco perché il capitale sta sfasciando la scuola per riprendere la locuzione di Paolo Crepè.